Bella rega, sono Metto di Radio Immaginaria e oggi vi volevo raccontare tre notizie di questa settimana. Partiamo subito con la prima notizia, infatti dai dati satellitari è emerso che dall'Antartide si è staccato un pezzo di iceberg, grande quasi quanto la città di Roma. Il motivo è quello delle temperature che si sono alzate negli ultimi tempi di diverse decine di gradi. La seconda notizia invece vi raccomando di non spaventarvi se incontrate un cane robot in giro per Pompei se siete lì a fare una visita. Infatti il parco archeologico di Pompei ha, diciamo, assunto un cane robot per farlo in modo che tutto sia sotto controllo. Spot, infatti, il cane robot ha una telecamera a 360 gradi che serve per raccogliere informazioni e dati per varie ricerche. Come ultima notizia vi volevamo raccontare un fatto, diciamo, particolarmente strano che è successo negli ultimi giorni a Torino. Infatti gli abitanti di Torino si sono svegliati con una piccola sorpresa, cioè una scritta, ti amo ancora, in una delle loro piazze principali. Questa iniziativa è partita dagli Eugenio in Via di Gioia, che sono una band musicale, che una notte insieme a oltre 150 persone si sono svegliati per realizzare questa scritta. Questo gesto è stato fatto per far esprimere a tutte quelle persone e anche a chi non ha contribuito l'amore che provano. Da Radio Imaginaria questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!